Un percorso di rinnovamento e di rigenerazione urbana. Siamo convinti che cambiare il volto della nostra città sia un'opportunità per dare sviluppo alle attività commerciali e alla socialità e per questo noi ci riproponiamo. Credo che per svolgere il ruolo di amministratori sia importante avere sia la passione sia l'impegno ma sia fondamentale anche avere l'esperienza e avere la competenza. Io credo che in questo gruppo ci siano tutte queste qualità e quindi è con piacere che propongo questo gruppo ai cittadini costatesi naturalmente sperando che accolgano le nostre idee di trasformazione e di crescita della nostra città. Un programma di continuità ma anche con delle novità perché il fatto appunto di avere gestito la città per 5 anni ci fa avere anche prontezza di quelli che possono anche essere i limiti per cui il nostro programma non è un programma di voli pindarici dove proponiamo obiettivi che non potranno essere raggiunti ma è un programma molto solido, molto concreto abbiamo voluto scrivere le cose che sappiamo di poter realizzare come del resto 5 anni fa abbiamo proposto una serie di interventi e di azione che direi sono state raggiunte nella interezza. Uno degli obiettivi era appunto quello di cambiare il volto della nostra città e penso che andando in giro per il paese tutti si possano rendere conto che questa fase di trasformazione è cominciata e naturalmente dovrà proseguire.